Arriva la prima riconferma per la stagione 2024-25. Fabrizio Preziosa siederà per la settima stagione consecutiva sulla panchina della prima squadra del team volley. Continua il mio viaggio, dice il tecnico, con il team volley e non al team volley perché è realmente quello che ho vissuto finora. Sette anni non sono pochi, i momenti vissuti insieme sono diversi e abbracciano un'ampia gamma di emozioni. Ogni stagione e ogni partita fanno storie a sé e la prossima è sempre quella più importante. Continua Preziosa, ma ce ne sono state alcune che hanno lasciato qualcosa in più delle altre. La finale Under-18 del Bervull Volley, vinta contro ogni pronostico il mio primo anno in un palazzetto gremito di pubblico. La partita che valsa la promozione dalla C alla B2 contro la Folgore, al termine di un play-off unico nel suo regolamento che non si era mai visto prima e che forse non si rivedrà mai più, durato un mese e mezzo. La trasferta rocambolesca liberatoria di Rivarolo l'anno scorso, dopo 5 sconfitte consecutive all'esordio. Lo scontro salvezza con Casale, che ci ha visto mantenere la categoria al termine di una rimonta epica. L'ultima, in ordine cronologico, la clamorosa rimonta gorgonzola nella stagione appena conclusa, che ha sancito la permanenza per la terza volta in B2. Tutti momenti di grande esaltazione e adrenalina. Sette stagioni sulla stessa panchina potrebbero essere un record. Non c'è l'assoluta certezza, ma c'è comunque motivo per cui andarne fieri. Continua il coach, sembra ieri quando sono arrivato, invece di tempo ne è passato. Siamo diventati il binomio di maggior longevità del panorama piemontese, a livello di campionati nazionali, forse uno dei più lunghi in Italia. Al giorno d'oggi un dettaglio di particolare rilievo assolutamente non scontato. Il segreto è la condivisione, confrontare continuamente le idee, valutare le opzioni, scegliendo quella migliore per il bene collettivo. Il coach spende due parole anche sul futuro. Il miglioramento è l'unica costante che ci prefissiamo con la società. È quello che vogliamo perseguire ogni giorno entrando in palestra che ci tiene sempre sul pezzo. Come sempre sarà il campo a dare il verdetto sportivo, ma a prescindere da questo, noi cercheremo di fare il massimo per farci trovare pronti.